Tecnici finanziari della Russia in visita oggi a Palazzo Ardinghelli, storico edificio che completa la piazza di Santa Maria Paganica. La Russia ha già versato 3 milioni di euro alla regione Abruzzo in base ad una convenzione firmata con il governo italiano che prevede un impegno di spesa da parte della nazione di Putin fino a 9 milioni di euro. L'hanno già versato 3 milioni di euro alla regione Abruzzo per questo lavoro. Abbiamo una promessa di finanziamento che arriva fino a 9 milioni di euro. Saranno sufficienti sicuramente. Al progetto per il recupero di Palazzo Ardinghelli sta lavorando la sovrintendenza assieme all'ufficio del vice commissario Marchetti. Per i lavori si procederà ad una gara d'appalto europea. La Russia ha adottato anche la chiesa di San Gregorio Magno. Parte dello studio progettuale è iniziato, quindi spero nel giro di un mese, un mese e mezzo, di avere un progetto definitivo da potermi andare in gara. Abbiamo detto di fare una gara internazionale, una gara europea, quindi noi possiamo fare la gara europea con alcune semplificazioni dovute alle deroghe che abbiamo e quindi poi daremo un termine di 15 giorni per la presentazione delle offerte. Costruito nella seconda metà del 1700 dalla famiglia Ardinghelli, il palazzo si affaccia sulla piazza di Santa Maria Paganica. Sede del comune negli anni 70-80 poi viene rivenduto da un privato al Ministero dei beni culturali per 4 milioni di euro. L'acquisto perfezionato a fine 2008, pochi mesi prima del terremoto, doveva dare sede all'ufficio regionale per i beni culturali.